E' la prima volta per lo stasso e per lo freno clima che passa in pista in un ruolo da Francia E' una macchina che poi si potrà sussare in ferro un po' anche con il quattro, un motore Ma adesso il cuore è per lo freno clima di questi motori che avrò è E' un paio clima! E' un paio clima! Grazie per la visione!